Per il tram non c'è pace. Ora rischia anche di restare senza i pezzi di ricambio. Il gruppo Alstom ha annunciato che dal 2019 cesserà la produzione. Ciò significa che con i mezzi attuali l'usura porterà il siluro rosso a spegnersi definitivamente entro il 2036, mentre il gruppo AVM sta continuando a pagare 455.000 euro al mese per estinguere il mutuo acceso per l'acquisto del mezzo con rate ancora per 30 anni. Una delle possibilità è puntare sugli artigiani del territorio, che hanno cominciato a realizzare alcune parti dei vagoni, ma non è sufficiente. Si spera anche nell'eventualità che prossimamente nuove aziende diano il via alla produzione di tram compatibili con la rete mestrina. È chiaro che le garanzie sono insufficienti. Per questo l'assessore comunale alla mobilità Boraso ha annunciato che la direzione di AVM con i colleghi che gestiscono il tram di Padova chiederà un incontro urgente con in vertici dell'azienda per avere chiarimenti. Finora il sistema monorotaia non ha preso piede e solo sette città l'hanno adottato in tutto il mondo, oltre a Mestre, Padova, Clément-Ferrand e Parigi in Francia, in Colombia e Shanghai in Cina. Un sistema completamente diverso da quello tradizionale, con i convogli che procedono vincolati su una rotaia ma con ruote gommate.